La Vellina abbraccia mister promozione, Dimitrios Sunas ha raggiunto i lupi nel ritiro di San Gregorio Magno con l'obiettivo di ottenere un altro successo dalla C alla B, quella cadetteria conquistata per ben tre volte con le maglie di Regina Perugia e Catanzaro in piazze dove come quella erpina si vive di calcio sette giorni su sette. Il centrocampista è stato voluto fortemente dalla società di patrono Angelo Antonio D'Agostino che sin dagli albori del mercato ha puntato sul calciatore sbaragliando subito la concorrenza del Catania. Per Michele Pazienza arriva alla mezz'ala di qualità, quel giocatore in grado di regalare giocati imprevedibili, abile negli inserimenti ed in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua abilità palla al piede e quella a manovrare negli spazi stretti sono destinata ad allargare il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico di San Savero per rompere gli equilibri nei match più difficili. Nato in Grecia, Sunas cresce nel settore giovanile dell'Aris Sallonico, uno dei club più importanti del proprio paese con cui esordisce nel 2012-2013. In tre anni colleziona 40 presenze e 2 gol, prima di non rientrare più nei programmi del club. Qualche tempo dopo la Prodi in Italia con il Monopoli, dove disputa tre stagioni con 93 incontri giocati, 4 gol e la bellezza di 17 assist. Successivamente il grande salto alla regina di Mimmo Toscano con cui ottiene la promozione in cadetteria. Poi un altro campionato vinto a Perugia con 36 presenze e 3 assist, in seguito le due stagioni e mezzo in giallo-rosso con la vittoria del GNC e la serie sfiorata ai playoff, 93 presenze, 15 gol e 12 assist. Un acquisto che rappresenta un segnale forte dato alle dirette concorrenti, un arrivo il suo che fa capire quanta fame di successo abbia l'Avellino, quanta voglia abbiano i lupi di arrivare fino in fondo per raggiungere il proprio sogno.